Quando si nasce diversi, spesso si viene abbandonati. Che ci crediate o meno, molti bambini ogni mese vengono lasciati al loro destino, perché non rispettano lo standard dei genitori. C'è chi li abbandona perché magari hanno una parte del corpo deforme, o chi per malattie. Oggi vedremo la storia di una bambina, che però è riuscita ad avere la sua rivincita dopo essere stata ingiustamente abbandonata per via del suo aspetto esteriore. Shue Li Ebbing è una sedicenne nata in Cina, è stata abbandonata alla nascita dai suoi genitori. Fu lasciata sulla porta di un orfano trofio e l'identità dei genitori non era minimamente nota ai tempi, e neanche dopo. In Cina ci sono standard molto alti, avere un figlio troppo diverso porta vergogna alla famiglia. Quella di Shue Li voleva evitare di essere giudicata e trattata diversamente, a quanto pare. Il peso per loro sarebbe stato troppo grande. In moltissimi paesi asiatici l'aspetto esteriore conta più di qualunque altra cosa. Le persone sono chiuse e cercano di non far mai uscire i lati oscuri della loro famiglia pur di preservare l'innocenza che mostrano ogni giorno. Ma per la piccola abbandonata davanti all'orfanotrofio non era ancora finita. È stata chiamata dal personale dell'orfanotrofio Shue, nel suo nome significa neve, mentre Li significa bella. È stata chiamata così perché è nata con l'albinismo. L'albinismo è una condizione genetica che porta a una riduzione della melanina nel pigmento di una persona e fa impallidire la pelle, i capelli e gli occhi. Per fortuna gli addetti erano persone amorevoli che non giudicavano in base all'aspetto, anzi, si chiesero come fosse possibile una neonata così carina fosse stata davvero abbandonata. Sapevano però anche che in Cina certi bambini non venivano sempre salvati. Per fortuna all'estero era molto richiesta per via della sua bellezza inusuale. È stata adottata da una famiglia nei Paesi Bassi che le ha fornito una casa amorevole. Crebbe in un mondo unico dove tutti la fermavano per strada per parlarle o anche solo guardarla dicendo ai genitori adottivi quanto fosse bella. Il suo mondo era costantemente pieno di persone diverse ogni giorno. Se andava al supermercato i cassieri la guardavano incantati. Se andava in un parco giochi gli altri bambini la bombardavano di domande sul suo aspetto ma crescendo si chiese come mai i suoi genitori l'avessero abbandonata. Quegli adottivi non le diedero mai una risposta precisa. Le dissero però che avrebbero continuato ad amarla per sempre. All'età di 11 anni un giorno una fotografa da Hong Kong vide la bambina durante una vacanza nei Paesi Bassi. Incantata da lei le propose di fare uno shooting per mostrarla al mondo e chissà forse sarebbe arrivato anche ai suoi genitori. Comunque sia dopo lo shooting moltissimi cominciarono a conoscerla e le mandarono gli auguri online e molti complimenti. Perfino BBC vedendola la intervistò chiedendo le varie cose. Le persone con l'albinismo sono discriminate in varie parti del mondo. Non aveva subito bullismo Shueli ma aveva subito molti sguardi, molte domande inopportune. In alcuni casi vengono perfino cacciati a causa della falsa convinzione che le loro ossa abbiano proprietà medicinali. Shueli un giorno ha detto sono fortunata ad essere stata solo abbandonata. A volte anche i modelli con l'albinismo possono essere usati come oggetti di scena per raffigurare angeli o fantasmi. Ma Ebbing dice che in questo caso la cosa le rende molto triste. Nel 2019 poi è stata in grado di lavorare anche con altri fotografi e ciò nel 2019 le ha permesso di andare oltre entrando a far parte anche di Vogue. O meglio entrando a far parte della cerchia di persone che ha dato la copertina a una delle uscite di Vogue. Un traguardo incredibile che l'ha resa felicissima. Essere una modella però comporta una serie di ostacoli per Shueli. Ha una vista dall'8 al 10% e quindi guardare direttamente i flash della fotocamera è doloroso per lei. Ma vuole comunque rappresentare persone come lei che non sono convenzionalmente belle e questo la fa andare avanti. Infine spera un giorno i genitori biologici la contattino e le dicano qualcosa qualunque cosa perché vuole mostrargli che dopo anni la sua condizione le ha permesso di diventare una persona riconosciuta importante. Vuole fargli capire che non avrebbero dovuto abbandonarla solo perché è diversa. E il messaggio spera arrivi a tante altre persone.